La casa sta prendendo forma e la cosa interessante è che ha sempre meno senso cioè non ha proprio un senso logico con solda DJ che dobbiamo montare abbiamo aggiunto un tavolo a mezza alla sala dite perché è il tavolo a mezza alla sala? così, mi piaceva mi piaceva tavolo Versace e... carino dai più o meno ha senso? ma sì dai Fedez oggi ha mostrato i suoi fan i progressi nell'allestimento della sua nuova casa un attico situato a Milano oltre a un'ampia collezione di videogiochi l'arredamento sta prendendo una piega più seria con l'arrivo di pezzi di design tra questi spicca un elegante tavolo di una nota marca posizionato nel centro del salone la casa sta prendendo forma riflettendo il gusto sofisticato di Fedez dopo una giornata di lavoro e preparativi il cantante si è concesso un momento di relax accanto al suo cane Silvio addormentandosi insieme a lui per un meritato riposo pomeridiano salone la casa è partita di destino di QTSS la casa è partita di distanza di QTSS Grazie a tutti